Salve a tutti cari amici, ultima prova speciale del rally di Spagna, siamo primi con parecchio vantaggio su secondi, quasi un minuto Rettura abbastanza rotta ma abbiamo finito quasi Vediamo che siamo al tramonto Bellissimi riflessi proprio realistici ma ci vanno un po' fastidio, un aspetto molto bello Tieni il centro su 30 6 destra, stringe 4, apre e stringe 5, destra In 5 sinistra lunga, in 6 destra su crinale, in 5 sinistra molto lunga Come un cazzo 30 5 destra lunga, stringe 3, in 4 sinistra lunga Siamo lì praticamente a 6 decine 30 6 destra molto lunga, stringe in 4 sinistra lunga, stringe 3 stretta In non tagliare 4 destra, apre 30 Ecco che sapevo io, ho capito subito che la vettura mi era presa di male Vabbè ne va, salvevamo bene 6 sinistra, 150 Prime 5 sinistra, 100 4 destra, stringe, in taglia 4 sinistra In 5 sinistra taglia poco su crinale Niente la vettura non va più Non mantiene la strada bene come prima Quindi dobbiamo pagare il cazzo In 6 destra lunga, attenzione 30 5 destra lunga, stringe stretta 3 50 Rallenta 5 sinistra su crinale lunga, in 3 destra Oh io In 4 sinistra taglia poco In attenzione 6 destra, 2 sinistra lunga Apre 6 In 3 destra molto lunga, stringe, 100 Aia 3 destra stringe, in 2 sinistra lunga, stringe 1 30 6 sinistra, in 4 destra Oh io ho un attimo, freno a mano Apre lunga, stringe dopo incrocio 5 sinistra, apre molto lunga, in 4 destra lunga Mini ferma lunga strada, in panne 50 6 sinistra lunga, apre, 100 Ecco qui, come non detto Vabbè cazzi mia Niente va bene 5 destra, molto molto lunga Stringe verso crinale E 6 sinistra molto molto lunga, stringe, taglia, apre 50 6 destra, 100 6 destra su crinale, rallenta, tieni la sinistra su crinale, 60 Atenzione 2 destra, stringe Apre 6 E va, giusto, lamenta 5 sinistra lunga, stringe 1, taglia poco, 70 4 destra lunga, 30 2 destra Niente, la nostra lettura è alla deriva Purtroppo abbiamo rotto qualche cosa alle ruote 2 sinistra lunga, stringe, non tagliare, apre, 100 5 destra lunga 5 destra lunga, stringe su crinale, in 4 sinistra lunga Abbiamo un vantaggio che ci permette di stare tranquilli per la vittoria finale Lenta, taglia poco, 5 destra, 3 sinistra, 2 destra, stringe, taglia poco In 6 sinistra apre, 50 6 sinistra, tieni la destra su 30, 1 sinistra, stringe In 2 destra, taglia poco, in 3 sinistra lunga, in 2 destra, stringe Siamo riusciti comunque a vincere Quindi che dire cari amici? Sì, siamo i campioni Il duro lavoro ci ha ripagato Infatti abbiamo vinto credo Non so la tappa, vediamo un po' Sì, anche la tappa E abbiamo vinto pure il rally Quindi grande gioia, sono felice Vediamo di passare la categoria superiore Non so se erano solo queste due tappe Penso di sì, vediamo un po' di passare la categoria superiore Con vettori più potenti Vi saluto e preparatevi per il prossimo campionato